Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Siamo riusciti a prenderci il primo posto. Poi adesso non stiamo a guardare come andrà il sorteggio perché uno dice magari andiamo contro una squadra un po' più debole e poi alla fine prendi qualche squadra forte. Però comunque la soddisfazione di essere arrivati primi è arrivata grazie all'entusiasmo di questi giovani ragazzi che oggi vanno a completare questa squadra. Perché come dice mister Stefano Pioli non bisogna fare l'errore di pensare che questi giocatori siano la seconda linea. Oggi al Milan ci sono tanti giocatori e tutti questi giocatori possono essere titolari. Possono comunque essere in grado di vestire la maglia del Milan e soprattutto possono essere in grado di dare qualcosa a questo Milan. Allora andiamo ad analizzare un po' la partita che parte subito forte perché il primo tempo è stato molto buono, molto buono dei ragazzi padroni in ogni situazione. Abbiamo nel primo tempo abbiamo forse schiacciato un po' di più lo Sparta che comunque è riuscito a venire avanti un paio di volte. Ma nel primo tempo veramente la classe e la tecnica dei nostri giocatori è saltata fuori e soprattutto è saltata fuori la corsa. Un Tussamu Castie con Peter Augie veramente devastanti sulle fasce. Come Pier Caluru è stato bravissimo ad arginare ogni sortita offensiva dello Sparta Praga. Quindi andiamo a parlare un po' giocatore per giocatore. Tatarussano, un giocatore che ieri ha dimostrato di essere un portiere che può stare nel Milan. Ha fatto una gran parata all'ultimo minuto, ha fatto una bellissima parata sui giocatori dello Sparta, non mi ricordo chi ha. Io non mi ricordo. Una bellissima parata, forse un po' fortunosa la prima, però nell'ultima parata ha salvato il risultato. Allora sulla sinistra ha giocato Diogo Dalot. Diogo Dalot è buono, anche se continua ad essere un giocatore che a me personalmente non piace tantissimo. Poi potete avere una vostra opinione. A me personalmente non è un giocatore che entusiasma come possono entusiasmarmi altri giocatori. Anche se ieri sera ha fatto una buona partita comunque. La coppia di centrali era Duarte e Pier Caluru. Duarte è una buona partita, buono, 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 ma soprattutto una gran partita l'ha fatta Pier Caluru. Pier Caluru è stato veramente devastante a livello difensivo, cioè non ha sbagliato un contrasto aereo, non ha sbagliato un colpo di testa ed è riuscito ad andare bene su tutti i palloni. Ha la capacità di avere un'elevazione da terra, uno stacco da terra impressionante. Un giocatore di vent'anni con un sacco di forza fisica e veramente molto, può essere nel futuro molto importante per il Milan. Mentre invece sulla destra è andato a giocare Andrea Conti. Andrea Conti del quale sono molto molto contento e probabilmente Stefano Pioli, l'ho già detto ieri sera in live, ha deciso di dare la fascia di capitano ad Andrea Conti proprio perché vuole un Andrea Conti più partecipe, più dentro questo progetto, forse vuole cercare di recuperarlo e cercare di tenerlo al Milan il più possibile. Vediamo come andrà a finire, ieri è andata bene perché comunque Andrea ha fatto una partita di sacrificio e di grande spirito, quindi una buona prestazione di Andrea Conti. A centrocampo c'erano Tonali e Krunic, Tonali gran partita, gran partita, visione di gioco. Ieri poi soprattutto, essendo in campo con tanti ragazzi giovani, ha preso in mano il pallino del gioco più di una volta, ha avuto proprio le chiavi del gioco del Milan ieri e a Sandro Tonali ha una visione di gioco impressionante. Bravo, bravo, bravo. Andrea Conti ha fatto il suo, come sempre, Andrea Conti non va mai sotto una certa soglia, a parte qualche partita, continua a sentire critiche su Andrea Conti, secondo me è infondate, come al solito la gente parla di... Quando si prende come obiettivo un giocatore o una cosa, poi si spara a zero su quella cosa, anche quando non fa niente per farsi dire cose contrari, quindi è un po' la natura dell'uomo quella, quella di rompere il cazzo anche quando non c'è da rompere il cazzo. Comunque, vabbè, a me Radek Lumi sinceramente non è dispiaciuto, ha fatto il suo e buona prestazione. Buona prestazione, una prestazione normale, non una buona prestazione, una prestazione normale di Radek Lumi. Passiamo al partito Daniel Maldini, un Daniel Maldini abbastanza buono, secondo me nel trio di tre quartisti è quello che ha giocato meno bene, ma comunque ha fatto delle buone cose a livello tecnico di Daniel Maldini, non si discute. Secondo me rimane il più acerbo fra i giovani del Milan. Passiamo subito a Lorenzo Colombo che ha fatto una buona partita, una partita dove ha corso tantissimo come sempre, perché è un giocatore che non si tira mai indietro. Poco preciso, sottoporta, però un giocatore che, soprattutto per un attaccante, giocare così poco può rischiare di non dargli la lucidità di cui ha bisogno e sottoporta. Però è una partita di sacrificio, una partita dove Lorenzino è stato molto bravo, quindi complimenti a Lorenzino. Passiamo a quelli che sono, secondo me, i due migliori in campo di ieri sera, Aughe e Castiglieco. Aughe ha fatto un gol all'Aughe, perché ormai questi sono i gol all'Aughe, punta, dribbla, tira, gol. Aughe ce le ha, ce le ha queste cose. Pioli ha spiegato ieri sera nelle interviste cosa deve migliorare Aughe e penso di averlo detto comunque anche io ieri in live. Aughe è un giocatore che ha bisogno di correre di più senza palla, perché con la palla tra i piedi è velocissimo, quando non ha la palla è un po' fermo, è un po' lì. Cerca poco la profondità, non aspetta la palla, non va a cercare la palla sul fondo. E' un giocatore che ha tanto da migliorare, ma un giocatore che ha delle basi ottime e questo lo vediamo. Chiaramente da qui, come dice qualcuno, fenomeno, direi di aspettare un po' il fenomeno, i fenomeni sono quelli che alzano i trofei. Cioè io chiamo fenomeni quelli che alzano i trofei, non chi fa gol e basta. Però vediamo, un giocatore che senza ombra di dubbio può diventare un ottimo giocatore. E Samu Castiglieco. Ragazzi, io di Samu Castiglieco non mi stancherò mai di dirlo. Samu Castiglieco fa parte del cuore pulsante di questo Vina. Samu Castiglieco è un giocatore, è un uomo spogliatoio. Samu Castiglieco è uno che quando in campo non si risparmia mai. E Samu Castiglieco è un giocatore che quando vede la porta tira. A differenza di qualcun altro, Samu Castiglieco è un giocatore che quando inquadra la porta prova quasi sempre il tiro. e quantomeno la porta la c'entra. Quindi è un giocatore che secondo me se sta al 100% è un giocatore che su quella fascia può dire la sua e può essere veramente il padrone di quella fascia. Ma come noi sempre è stato perché ragazzi quando mi dicevate Ah no, Castiglieco non è vero che ha avuto il Covid. La riprova è stata nella conferenza dell'altro giorno che Samu Castiglieco ha dichiarato di aver avuto il Covid. Quindi come vi dico sempre, quando parla il tringa ascoltate e cercate di capire cosa dice il tringa. Non cercate di rispondermi con quello che scrivono i giornali. Perché il 90% delle volte magari il tringa sa qualcosa di più rispetto anche a quello che dicono i giornali. Comunque ragazzi è inutile stare a parlare di quelli che sono subentrati Brian Diaz ha giocato un attimo è entrato Frank e sì ma non è entrato bene Leao è entrato importantissimo ha fatto 20 minuti, 20 minuti di corsa sembrava che aveva le saponette sotto i piedi forse ha sbagliato i tacchetti Raffa Leao Buona prestazione dei ragazzi e soprattutto un voto alto per Stefano Pioli perché tenere la tensione così alta con dei ragazzi che giocano pochissimo non è facile e Stefano Pioli come al solito ci mette del suo Siamo tutti contenti per il primo posto ora ragazzi ci sarà il sorteggio l'Europa League riprenderà a febbraio e noi concentriamoci sul campionato la prossima è Milan Parma e bisogna assolutamente portarla a casa ragazzi ci sentiamo più tardi vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore lo sono io ciao